L'S2, l'S3 o l'S4? Questo è il problema. Ciao amici, sono Claude e andiamo a vedere le differenze fra questi tre controller. Molto spesso mi chiedete la differenza, ma cos'è meglio per me? L'S2, l'S3 o l'S4? Ecco, andiamo a vedere. Ready to go! Ecco qua il sito dove abbiamo Tractor Pro 3 adesso in offerta sui Black Friday, quindi a 49,50 anziché 99 nel caso approfittatele. Ma concentriamoci sui tre controller Tractor Control S2, Tractor Control S4, Tractor Control S3 in ordine di uscita S2 e S4 nella versione MK3 sono usciti insieme, poi è uscito l'S3. 299 l'S2, 499 l'S3, 899 l'S4. Tutti i prezzi da controllare perché sui siti non di Nativistumen si trova decisamente a meno, quindi andate a vedere, che ne so, su Thoman o su strumentimusicali.net. Detto questo, i consigli per gli acquisti. Vedete che qua la differenza sostanziale, a occhio, sono i due canali contro i quattro dell'S3 e dell'S4. Quindi l'S2 sta per due canali, tre non ha tre canali ma ne ha quattro comunque, però ha meno cose dell'S4, andremo a vedere. Andiamo su quello base, cioè sull'S2 che costa veramente poco, offre il giusto, però per cominciare va molto bene. Vedete qua nelle foto, nei vari dettagli, la Jogwheel di 5.5, il Flux, il Reverse, già su questa versione, i MixerFX introdotti nella nuova versione MK3, eccoli qua, da assegnare ad ogni canale, i pad, i quattro pad RGB con le colorazioni, e la parte retro dove avrete l'ingresso microfonico, l'uscita normale RCA Apping Jack, una presa USB per attaccarlo e un'altra presa, e inoltre l'alimentazione a 1.5. L'S3, vedete che già sulla parte retro abbiamo le uscite bilanciate, oltre all'uscita generale, uscita per, doppia uscita per la boot, quindi per la monitor, e un ingresso, oltre alla presa USB normale, alla presa USB e l'alimentazione, 12V. ecco qua le foto, vedete anche qui i MixerFX, gli effetti, in più i filtri, la Jogwheel, i pad, i quattro canali a differenza dei due dell'S2, il Flux e il Reverse anche qua, sulla manopola qua per caricare sull'S3 abbiamo più funzioni, vedete qua puoi andare nei preferiti, puoi spostarti nelle playlist, mentre sull'S2, andiamo a vedere, vedete che ci sono meno, possibilità, ecco qua, ne abbiamo solo due, a differenza della terza, e la visualizzazione d'insieme sull'S3, quindi che potete vedere tutto lo schermo del Tractor Pro 3. Vedete velocemente l'S4, e qua si cambia decisamente passo, abbiamo due uscite Fono, che possono essere anche tranquillamente linea, e altre due uscite, quindi quattro canali, le uscite bilanciate, left-right, un'uscita normale RCA e un'uscita boot, inoltre un ingresso microfonico dietro per il C, l'hub per introdurre un USB e l'USB normale che va al computer, inoltre il 15V per l'alimentazione e il tasto d'accensione. Il colpo d'occhio dell'S4 è veramente devastante, perché in più hai due display dove tu potrai vedere delle tue tracce. Eccole qua, che le vediamo bene con tutti i punti di cue, il move e loop, questo che non c'è sull'S2 neanche sull'S3, la manopola per gestire tutte le playlisti preferiti e la vista d'insieme, e poi come vedete qua l'aptic drive, quindi la jog motorizzata, questa è veramente una figata. Con l'aptic drive tu senti quando toccherai la jog, se c'è un punto di cue, sentirai veramente sulle dita la vibrazione che ti dà l'aptic, quindi ogni volta che hai un punto di cue o un loop come vedete in queste immagini, sentirai la vibrazione sotto, questo è veramente figata. Ma non stiamo facendo pubblicità né all'S4 né all'S3 né all'S2, vogliamo metterli semplicemente in riga, in comparazione. Ed ecco qua, la comparazione definitiva dell'S2 che è un due canali più microfono, tutte sono compatibili con gli stems, quindi possono andare con gli stems. Tutte includono il software Tractor Pro 3, tutte sono plug and play per configurarle, tutte hanno la possibilità di gestire i 4 deck del Tractor più i 40 e più effetti, il mixer FX è presente su tutte e tre. Le dimensioni, vedete 48,6 per l'S2, un pochino più piccolino, 26,5,5,9, 2,36 kg, mentre 54 cm per l'S3 è 4, 31,6 per 6,13 per 3,23 kg, più o meno uguale la lunghezza di 1 cm perché 54, addirittura è un pochino più piccolo l'S4, però è molto più profondo, vedete 36 cm e l'altezza 6,5, pesa 4,3 kg. E andiamo alle differenze sostanziali. Jog wheels per scratchare e pitch bending, tutte e tre. L'aptic drive motorizzata solo sull'S4, mentre mancante sia sull'S3 che sull'S2. I display come abbiamo visto, i display questi qua, solo sull'S4 e questo determina anche il prezzo finale, l'alta risoluzione display né sull'S3 né sull'S2. Ed altra sostanziale differenza che volevo farvi notare sono i controlli degli effetti mancanti sull'S2 e sull'S3. Questa è una cosa che non mi è piaciuta che abbiano tolto dall'S2 e MK2 c'erano, sull'S2 e MK3 non ci sono più, mentre sono rimasti per fortuna sull'S4 e MK3. Infatti vedete, gli effetti qua sopra li abbiamo, sull'S3 sono scomparsi, anzi sull'S3 non c'erano perché è uscito dopo, sull'S2 sono veramente scomparsi e non li vediamo. Andiamo a vedere una foto dove si vede. Ecco qua, vedete? Qua non ci sono più. Tutte e quattro, sì anche l'S8 hanno i filtri mixer FX con il knob dedicato su ogni canale. Che cos'è? Sono questi i filtri effetti, sono queste qua, questi quattro con la possibilità di filtrarli, vedete, da questi knob. La possibilità di controllare il browser del Tractor Pro 3, ovviamente tutte e quattro le macchine, loop encoders tutti e tre, numero di pad, vedete, 16 RGB, quindi numero di pad, la connettività. Vediamo la scheda audio, la qualità audio, 24 bit, 44,148.000 kHz per l'S2, mentre 24 bit fino a 96.000 kHz per l'S3, 24 bit fino a 96.000 kHz idem per l'S4. L'ingressi molto importante, vedete che qua non ha ingressi in linea l'S2, quindi nessun ingresso come abbiamo visto dietro, solo quello microfonico, ma nessuna linea, quindi non si può connettere giradischi, niente, o altri lettori cd o altre macchine. Un ingresso in linea per l'S3, solamente uno, e due ingressi, due fono, quindi due giradischi e quattro ingressi in linea per quel che riguarda l'S4. Andiamo a ingressi microfonici, uno da un quarto, uno da un quarto per l'S2 e l'S3, due, uno XLR e uno da un quarto. L'S4 infatti ha sul davanti un ingresso microfonico e uno sulla parte posteriore a G. L'S3 e l'S4 hanno l'hub USB dietro, come visto, e non ce l'ha l'S2. E la cosa importantissima, la possibilità di essere stand alone, che è solo l'S4 in questo caso. Che cosa vuol dire stand alone? Che voi potete lavorare anche senza computer, quindi l'S4 potete tranquillamente inserire i vostri ingressi qua e suonare senza computer. Ovviamente non sfrutterete gli effetti, non sfrutterete tante cose, però potete suonare e usarlo come un mixer. Avrete accesso solamente alla sezione filtro normale. Andiamo infine alle uscite principali, dove vedete che abbiamo un'uscita classica RCA per l'S2, mentre abbiamo una normale e una bilanciata XLR per l'S3 e abbiamo bilanciate per quel che riguarda l'S4. Che dire, andando a fare due considerazioni, possiamo dire che per chi inizia è più che sufficiente un'S2, perché con veramente meno di 300€ si trova anche a meno questa S2. Credo che ci siano pochi controller che abbiano tutte queste funzioni qua, base e insomma con la garanzia di native instrument e tractor. Ovviamente non ha la sezione effetti e le uscite sono un po' limitate. Con l'S3 è un po' una via di mezzo, ma manca ancora la sezione effetti globale, è la sezione del mixer FX che puoi gestire 4 color FX, così come si dice in Pioneer, da qui. L'S4 è una macchina completa. Con i jog motorizzati, come si sa, è il controller al momento più performante, è quella che se la gioca con i migliori controller al mondo. Quindi l'S4 MK3 è veramente una macchina completa, sia per le jog motorizzate, sia per l'uscita audio, sia per un sacco di funzioni che la rendono unica. Come consigliarvi al meglio? Se iniziate da zero vi consiglio un'S2, anche perché poi potrete rivenderla e passare eventualmente a un S3 o un S4, se vi piace tutto il mondo tractor. Con poco avrete veramente una macchina che mixa due canali, ma vi sarà più che sufficiente. Se volete qualcosina di più per quel che riguarda i quattro canali, giocare con i deck, con i remix deck, con un sacco di funzioni in più, potete scegliere l'S3 che con 499 è molto concorrenziale rispetto a tanti controller che ci sono, a tanti controller Pioneer. Se volete il top, ovviamente l'S4 per 899 euro che si trova, come ho detto, anche a meno, avrete veramente il top di gamma e farete delle cose velocissime e affidabilissime. A voi gli acquisti. Per ricordarvi dei corsi per DJ, corsidjproducer.com, potrete fare corsi per DJ, corsi di produzione musicale con me, sia per quelli che partono da zero che per quelli che hanno bisogno di aiuti o devono riprendere la marcia o semplicemente vogliono passare a livello superiore, quindi fare il cosiddetto salto di qualità. Potete contattarmi nella sezione contact, compilando il form, oppure nella pagina facebook all'interno di ogni video la trovate, contattatemi in privato lì. Oltre alla pagina facebook dove metterete mi piace, lo spero, c'è anche la pagina instagram e la pagina telegram con tutti i contenuti extra, con tutte le cianfusaglie che io metto ogni giorno, insomma tutto il mondo di SOS4DJ è svelato su telegram quando si spengono le telecamere. Il canale youtube dove vi chiedo l'iscrizione, è importante per farvi crescere ma anche per crescere noi perché insomma perché se cresciamo noi crescerete anche voi e saremo sempre più motivati a mettere contenuti di tutti i tipi. Attivate la campanella, mettete un like se vi è piaciuto questo video e condividetelo con i vostri amici sui social se pensate che gli possa essere utile. Sostieni SOS4DJ, inoltre se pensi che stiamo facendo un lavoro che ti aiuta, offrisci un caffè o tutto quello che vuoi schiacciando il tasto paypal. S2, S3 o S4? Vediamo quale sceglierete per questo black friday o per i vostri prossimi acquisti, come visto sono differenti ma ognuna ha la sua fascia di prezzo che vi può aiutare con le caratteristiche utili o un po' meno utili per voi. Se dovete cominciare sicuramente l'S2, se siete a un livello un pochino più avanzato un 4 canali S3 può esservi utile, se veramente volete fare performance e che con i lettori anche non si fanno qui molto più velocemente ve lo posso garantire che l'S4 MK3 è veramente stra top. Pensateci, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e se poi avrete deciso di acquistare. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio tutti e mi raccomando iscrivetevi sempre al canale e condividete tutti i video di SOS4DJ. Una buona giornata da parte di SOS4DJ e Claude Sparazniaus.